Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi qui per raccontarvi della grande tristezza dei figli spirituali di Padre Pio quando si avvicinava il settembre del 1968. Ormai tutti lo vedevano sempre più sofferente, sia al confessionale che all'altare, lo si vedeva sempre sulla sedia a rotelle, neanche questa umiliazione il Signore gli ha risparmiato, diceva qualche figlio spirituale. A lui che aveva sempre chiesto di soffrire, soprattutto per il bene delle anime e proprio a chi gli domandava padre come sta. In quel periodo lui diceva sto agonizzando, ma provetteva che non avrebbe lasciato orfani i suoi figli spirituali, i suoi gruppi di preghiera. Quante assicurazioni che dava in quel periodo Padre Pio da Pietrelcina, proprio in un'occasione a Pietro Cugino poco prima della sua morte disse ti devo salutare. Non era il classico saluto che gli dava quotidianamente la sera a Pietro, era un saluto differente e Pietro che capì gli chiese ma padre noi come faremo senza di te? Di là le cose le vedo molto meglio e posso aiutarvi molto di più, disse Padre Pio a Pietro e vedendolo poi piangere a singhiozzi, Padre Pio soggiunse tu vieni presso la mia tomba e dici io non me ne vado da qui fino a quando tu non mi ascolti.